La moderna chimica ci ha abituato a molteplici colori e tonalità veramente svariate, però quindi parliamo di centinaia e centinaia di possibili colori, anche particolari, accesi, insomma, di tutto di più. Però anche la natura, non scherza, chiaramente non abbiamo possibilità infinite come la chimica ci permette, ma in compenso abbiamo delle saturazioni e delle colorazioni che secondo me sono magiche, che invece la chimica, a parte gli odori veramente a volte veramente sgradevoli, e ricordo che uno dei dodici principi base di un buon inchiostro è che deve essere che un buon inchiostro deve avere anche un ottimo odore, e spesso questo non capita perché ci sono degli inchiostri che, insomma, personalmente se li apro mi viene il mal di testa. In questo caso vi mostro alcuni colori che faremo appunto a Gubbio a metà del prossimo mese di giugno. Qua possiamo vedere il blu di campeggio, un altro blu di campeggio, questo ha, purtroppo, ecco, forse un po' si vede, ma ecco, questa è una tonalità, forse un po' più prugno, un blu prugno, questo invece è un bellissimo blu scuro. Ecco, poi qua abbiamo altre colorazioni, abbiamo un blu che deriva dall'indaco, qua abbiamo una tonalità lilla scuro che proviene dall'estrazione a freddo del campeggio, quindi della ematossilina che è stata a freddo. Qua la colorazione è un po' più calda ed è tendente al rosso mattone, e come vedete è un campeggio a caldo, quindi estratto a caldo dopo bollitura. Qua ho sbagliato solo io, ho scritto mordente noce, ma questo è mallo noce, vero mallo, questo è mordente noce, spesso in maniera così totalmente erronea, sento parlare sempre di mallo di noce, ma più delle volte è mordente noce. La tonalità è molto molto simile, però vi prego di guardarlo meglio, ecco vedete che questo è molto omogeneo, invece qua le zone di accumulo e di rastremazione del liquido sono molto evidenti, qua è diverso ed è anche diverso l'odore, questo è in odore, questo sembra un nocino, ok per intenderci. Qua invece abbiamo del bellissimo color nero che deriva dalle foglie di scoteno, questo è lo scoteno senza nulla, cioè dopo la sua lavorazione non ho aggiunto nulla, qua invece si tratta di questa parte primaria superiore con l'aggiunta della parte liquida che mi consente di avere corpo e che viene aggiunta diciamo anche ai ferrogallici, quindi la gomma arabica. Ecco qua abbiamo veramente un'esplosione, comincio un po' di colore più importante, abbiamo vedete questo splendido giallo cartamo, dove vedete ho una deposizione di colore più scuro sui bordi, sul perimetro esterno, questo bellissimo colore è derivante dall'unione di cartamo con del ferrogallico, questo qui è un grigio derivante dal cartamo, questa è la splendida cocciniglia, ok, un bellissimo color rosso, e questo qui è il mitico prugnolo, ok. Ecco qua abbiamo altri elementi molto carini, abbiamo la corteccia di ipocastano, un colore anche questo molto interessante, la bellissima robbia tintoria, qua invece abbiamo la corteccia di castagno, e questo qui è il mio classico cecilio ferrico, ferrogallico che, insomma, che si voglia, ok, con l'aggiunta di gomma arabica. Ecco questa parte qua anche molto interessante, possiamo vedere un inchiostro ottenuto da galle, cioè, scusate, da ghiande raccolte nel Vercellese, queste sono ghiande che arrivano, vedete, dal Friuli, e c'è un cambio di passo notevole, vedete, entrambi bellissimi, questo colore più ambrato, questo più scuro. Questo invece è un bellissimo ferro gallico che dà su un verdone, e che è stato fatto con galle tipicamente appenniniche. Ecco, poi abbiamo sempre questi bellissimi colori, guardate qua questo prugna, è stupendo, ed è sempre con una base di campeggio. Questo invece, verde enne, è stato ottenuto con, appunto, una base enne, mixer, niente, sono 4-5 componenti diversi che ho utilizzato. Questo grigio chiaro e grigio scuro sono semplicemente stati ricavati sempre dal campeggio. Ecco, il campeggio è veramente molto molto polietrico, e si presta anche fino a 10 tonalità diverse, a seconda di quello che gli metto dentro, con cui, diciamo, lo faccio reagire. Ecco, poi qua ho questo color senape, ma in realtà questa, non essendo una carta acid free, mi ha fatto un viraggio che non è quello che è giusto, perché evidentemente ha qualche componente acida, se no la sua tonalità è prettamente senape. Ma su questa carta, vedete, c'ho del senape, anziché del senape, scusate, ho una tonalità tipo un viola scurissimo, ed è ottenuta da due componenti, dove ho appunto il legno campeggio e il cartamo. Poi qua ho tutta una serie dei miei cecidioferrici a rilievo, si possono notare, ecco, li ho tutti, vedete, si vede bene il rilievo, quindi il rosso, il blu, il grey, il verde, insomma, il brown, insomma, ce n'è veramente tanti. Ecco, e poi qua abbiamo di nuovo un po' una nota di colore, abbiamo, vedete, legno brasile sopra, ecco, legno brasile molto scuro, è un bruno scuro, ma perché ha una componente di base ferrotanniche, invece sotto questo rosso è proprio senza l'aggiunta di nulla, se non un po' di gomma arabica per dare un po' di corpo all'inchiostro. blu-nero è una formulazione di inchiostro che avevamo tirato fuori con il capitano Arminio, si tratta di un bellissimo colore adatto al caricamento delle stilografiche. Niente, tutto qua, quindi vedete che, insomma, ce n'è, insomma, qualche decina, anche solo di colori naturali, ma poi si possono fare tante variabili, però, insomma, anche le componenti naturali sono veramente tante e secondo me bellissime, perché guardate che magnificenza di colori abbiamo qua.